E' venuto a trovarci sotto forti pressioni di Luca Veneri che mi ha impedito di dire di no perché io non ce lo volevo Pietro Faralli. Pietro Faralli che... Fino a ora di che cosa ti sei occupato? Diciamo di diverse cose, ho avuto esperienze lavorative in banca, artigiano, presidente di Confartigianato in Camera di Commercio e attualmente faccio consulenze. E allora cosa fa uno dopo una carriera brillante così dove si è trovato davanti a gente fregata e decide di entrare in politica, mi auguro per aiutare la gente o per fregarla? Diciamocelo prima. L'intento è quello di aiutare la gente, poi quando siamo lì vedremo insomma noi comunque abbiamo un'idea della politica che vorremmo recuperare se non altro l'entusiasmo perché in effetti ormai credo che questa politica ha allontanato la gente, se non si riparte dal basso. Ora io do già subito una rassicurazione, siccome chi ti ha visto Pietro, io ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto, chi ti ha visto è terrorizzato di un'altra lista civica ad Arezzo. No, Pietro Faralli è a Civitella della Chiana e quindi questa è già la prima rassicurazione di Arezzini che ti diranno No, un'altra lista lì. No, un'altra lista civica. Quante liste civiche ci sono a Civitella? È solo la tua oppure altre? No, c'è un'altra lista civica, attualmente quella del comitato. Di una donna, mi ha chiesto amicizia su Facebook, è una donna? Una donna è la candidata dell'attuale giunta del PD e poi non sappiamo se c'è un'altra lista della Lega della Toscana, comunque sicuramente tre e probabilmente quattro. Allora, Luca Veneri è un amico ed è una persona seria, ha un difetto, è sempre in mezzo ai cavalli. Ora non vorrei che te porti dietro qualche somaro perché chi siete, chi compone questa tua squadra? Ma diciamo è fatta innanzitutto da giovani, da persone che in qualche modo appunto vogliono recuperare il senso della politica, non siamo politicamente squadrabili nel senso che non siamo un partito, non abbiamo... Siete trasversali? Siamo molto trasversali, certo ci contrapponiamo alla lista di centro-sinistra, è chiaro, però voglio dire che la nostra caratterizzazione vuole essere proprio quella di un movimento apartitico, trasversale, noi vogliamo confrontarci sui problemi e anche sul modo di condurre la campagna elettorale vorremmo inaugurare un modo nuovo che non è quello di picchiare o demonizzare l'avversario, ma è quello di confrontarci sui problemi veri del nostro comune. E da questo punto di vista credo che vorremmo mantenere proprio questo elemento caratterizzante di creare entusiasmo soprattutto fra ragazzi e fra giovani per cercare di riavvicinare i cittadini al senso dell'amministrazione pubblica, al senso del civico. Dimmi il problema più grosso per Civitella che la sinistra non è riuscita a risolvere secondo te. Molti si aspettano che si parli della Chimet che è un problema, ma secondo me il vero problema è quello della mancanza di un disegno di sviluppo organico. Questo è un comune che ha grandi possibilità di sviluppo perché Vicio Maggio, Piavaltoppo sono centri che stanno diventando anche numericamente molto importanti, ma non ha un quadro di riferimento organico. Ci sono una serie di elementi che vengono messi in atto soltanto sull'onda delle emotività. Manca un quadro di riferimento, manca un progetto per dire come ci immaginiamo lo sviluppo del nostro territorio da qui a 20 anni e fare una serie di azioni conseguenti a questo nostro progetto. Parlare parla bene, va a capire come razzola. Ora sta a voi dargli la fiducia e a lui dimostrare se razzola bene o razzola male. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi.